benvenuti al circo il calcio italiano si conferma sempre 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 particolare curioso e insomma ci regala spunti sempre più interessanti mese dopo mese settimana dopo perché perché a noi la logica non ci piace perché a noi la polemica ci fa godere perché a noi le cose complicate piacciono tanto e ci piace rendere le cose semplici complicate perché altrimenti la vita perde senso siccome non ci sono cose ben più serie di cui preoccuparsi noi noi ne creiamo sempre di nuove per complicare un contesto già di per sé insopportabilmente pesante e allora oggi te tocca te tocca vedere quel 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 gentiluomo quel gentiluomo quel gentiluomo di cairo che dopo aver detto aver richiamato al rispetto del protocollo in occasione di juve napoli adesso si indigna per per quello che sta succedendo oggi in lazio torino perché è un gentiluomo io mi al tanto di cappello e anche al femminile guarda perché oggi voglio esagerare perché veramente io amo le amo l'onestà intellettuale ed è ed è un pregio che io veramente devo fargli complimenti perché è un esempio di un'onestà intellettuale lui è il suo meraviglioso meraviglioso quotidiano sportivo a cui mi alzo tanto di cappello e anche al femminile di nuovo perché quando ci vuole ci vuole per cui è una giornata che si poteva evitare con un'infinità di situazioni cioè si poteva si poteva evitare in un'infinità di modi diversi si poteva evitare evitando questa 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 simpatica creazione di un protocollo che vale tanto quarto la carta straccia conti fatti perché come mi ricorda i tempi in quelli elementari stabilivamo i manuali della classe o cioè il gioco il gioco puerile di un di una serie di infanti che si ritrovano senza nulla da fare per passare il tempo esattamente quello che è successo in in lega quando hanno stabilito il protocollo di gestione della pandemia un protocollo che è spesso in contrasto con con le regole dello stato in cui viviamo e per cui non conta niente cioè quando uno decide io non gioco più vado vado dalla mamma che in questo caso è la giustizia ordinaria e può riportare le cose esattamente dove vuole che è esattamente quello che accadrà stavolta ragazzi questa volta è totalmente impossibile che venga dato il 3 a 0 alla Lazio e il punto di penalizzazione al torino è impossibile con buona pace di chi giustamente si sta indignando perché nella lotta per la retrocessione ci sono squadre che giustamente stanno facendo un macello perché quelle regole in italia in fondo ma la coerenza noi non è un pregio la coerenza no la coerenza è per le persone e per le persone che che hanno troppo da fare e quindi e quindi e quindi noi noi siamo in ecco ci piace cambiare idea noi cambiamo opinione cambiamo punto di vita perché è più bello la vita la vita ti regala più imprevisti non sai mai cosa succederà il giorno dopo e cosa penserà la persona con cui hai parlato tre ore fa sarà della stessa idea o avrà cambiato idea ecco da noi ci piace ci piace così perché è tutto un po più peperino e tutto un po più è tutto è tutta una rottura di sì è un po è un po tutto pesante è un po tutto pesante e lo dice uno a cui desto 3 a 0 a tavolino non mi ne può fregare di meno perché io sarei stato ben felice di godermi la partita sarei stato ben felice di di distruggere sportivamente un torino che da quando cairo si è messo a fare il gentiluomo mi sta particolarmente simpatico e quindi quindi insomma peccato che non si sia giocata perché oggi col vedendo che ci avevamo tutti quanti tifosi compresi credo che sarebbe stato un richiamo a partite ben più celebri ecco però purtroppo non si è giocata si giocherà poi perché vedete il punto non è non è più lo sport questi ultimi due campionati sono stati sporcati così tanto dalla mancanza di elasticità mentale dalla mancanza di rispetto reciproco dalla mancanza di rispetto nei confronti di un pubblico pagante dalla mancanza di rispetto verso l'intelligenza di chiunque fosse all'ascolto che non riesco neanche più a ad arrabbiarmi io faccio ironia faccio sempre ironia ragazzi perché dietro all'ironia nascondo una certa rassegnazione spesso e volentieri nei confronti di tanti temi sia quando parlo magari di di cose professionali appunto nel mio canale principale quello in cui lavoro vero e proprio sia sia qui dove bene o male è il luogo in cui chiacchiero come se fossimo appunto fra fra amici al bar in un periodo storico in cui non ci si può più andare con gli amici al bar a chiacchierare per cui però però è la verità ragazzi è un periodo veramente assurdo cioè oggi onestamente ma ma in origine si sarebbe dovuto dire ragazzi ok parlo dei presidenti la pandemia è un problema oggettivo qual è il modo più semplice e lineare per gestire quelli che saranno sicuramente i problemi e stabilire un protocollo che non fosse basato su i bonus in stile fantacalcio io me ne gioco uno oggi no io me lo tengo cioè che fosse un protocollo di buonsenso senza neanche il bisogno di scrivere niente da nessuna parte semplicemente un protocollo in cui si dice ragazzi allora qual è la cosa peggiore che può succedere gestiamola nella maniera più uniforme possibile affinché nella nella follia di un periodo folle ci sia quantomeno equilibrio nel gestire le situazioni al netto di quelle che possono essere le situazioni specifiche di quella o questa squadra magari una si ritrova con una marea di positivi e dice ok non posso giocare io io per esempio trovo che inserire a protocollo a regolamento questo punto di penalizzazione sia sia sintomo di quante spaccature ci siano in quella federazione perché in un periodo come questo in cui dovremmo essere tutti realmente uniti sportivamente e non il punto di penalizzazione implica la consapevolezza che qualcuno in un regolamento troppo morbido ne avrebbe potuto approfittare ed è già lì la sconfitta dover mettere a regolamento un qualcosa che possa impedire agli altri di fare i furbi io non l'avrei messo quel punto io avrei avrei fatto un richiamo alla sportività e all'onestà di tutti dicendo ragazzi nel momento in cui le partite non sono disputabili o creiamo un momento durante l'anno in cui recuperarle tutte magari anticipando la fine del campionato per fare in modo di ritagliarsi un mesetto per poter recuperare certe partite oppure beviate il tavolino nelle parti ma senza il punto di penalizzazione auspicando che tutti cercassero nelle loro situazioni specifiche di non cavalcare magari la convenienza in qualche momento per cui adesso è assolutamente lecito e legittimo che parma cagliere genoa stiano dando di matto perché è giusto così perché non c'è non c'è uniformità cioè quello che sta accadendo oggi è un brutto precedente un precedente ancora più brutto di juve napoli se vogliamo perché qui c'è proprio c'è già juve napoli come precedente il fatto che si sia presentato una situazione per certi versi ancora più brutta perché poi ragazzi anche il discorso dell'asla allora allora l'asla ha bloccato il torino e quindi va benissimo giustamente perché è di importanze superiori però poi quando l'asla autorizzava la lazio a giocare allora lì non andava bene allora lì si ricorre però la giustizia sportiva vedete quanta quanta confusione c'è in tutto quello che succede io per quello che questi due campionati sono campionati che che onestamente non non riusciremo a goderci indipendentemente da come finiranno chi li vincerà sarà contento chi andrà in ciappi sarà con giustamente chi andrà giù forse soffrirà molto più di quanto abbiano sofferto quelli in altre stagioni perché essere retrocessi in un campionato come questo così come nel precedente è quanto di più ingiusto ci possa essere dal mio punto e ripeto io parlo da tifoso di una squadra che non rischia la retrocessione grazie al cielo ma mi metto nei panni di chi invece ci sta in quei in quelle situazioni e non lo so ragazzi sono da da amante dello sport ancora prima che della lazio non la sto vivendo bene e ripeto l'ho buttata sull'ironia senza mettermi lì a far troppo perché non mi va neanche di polemizzare non io non so come a certa gente vada effettivamente di polemizzare in questi momenti a me io polemizzo solamente con l'incoerenza di alcuni perché lì veramente se c'è una cosa che odio è che le opinioni dipendano dalla convenienza e in Italia purtroppo è sempre così ma se le regole ci sono vanno rispettate in un certo modo se no allora tanto vale mettersi d'accordo da amici nell'anarchia più totale e trovare degli equilibri che siano di convenienza reciproca ma per tutti e non solamente per alcuni per cui niente adesso ci prendiamo questo temporaneo 3 a 0 con il punto di penalizzazione poi verrà tolto sia uno che l'altro si rinviarà la partita si rigiocherà e faremo 4 per Artorino ecco segnatevelo perché quella partita si vince non questa volta non ho timore di essere smentito sono stra convinto che quella partita la stravinceremo con una cattiveria che forse non ci sarebbe stata nella partita se fosse stata giocata regolarmente ad ogni modo ragazzi questo è quanto avrei voluto parlare di tutt'altro avrei voluto ironizzare sui nostri giocatori sulle situazioni di campo su quello che lo sport è e sul perché poi lo amiamo così tanto purtroppo in questo bienio sembra essere veramente veramente impossibile per cui sempre Forza Lazio anche quando non si gioca e noi ci aggiorniamo a breve con eventuali novità Grazie a tutti